Ho deciso, voglio partecipare. Anch'io voglio votare per il rinnovo dei Comites. Bene, hai capito quale deve essere la tua prima mossa? Sì, devo richiedere al Consolato di essere iscritto all'elenco elettorale. Solo così riceverò a casa il plico con il materiale per votare. Ho tempo fino al 3 novembre. Ti ricordi come fare la richiesta? Posso inviare la richiesta per posta, PEC o mail, allegando un documento d'identità o andando personalmente all'ufficio consolare. E in alternativa? Facile, tramite il portale Fastit.